Padiglione L dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, Caldo Agostano e Acquazzoni non fermano il cantiere con il quale la provincia sta cercando di ricavare in tempo record spazi per 25 classi per dare risposta all'enorme anticontagio previste negli istituti scolastici. In giornata a sopralluogo del presidente della provincia Stefano Marcon che ha fatto il punto sui lavori. Uno dei due macro interventi della provincia di Treviso per risolvere i problemi degli spazi scolastici, 22 aule, 3 laboratori, una segreteria e un ufficio amministrativo. Qui siamo a pieno terra, con la rete in pieno lavorazione, oggi abbiamo 50 operai che stanno ripristinando questa area industriale, sfida unica in Italia oserei dire, che contiamo di centrare entro il 14 settembre, dotando l'istituto Manfiori, l'istituto albergiero di Castelfranco, degli spazi che necessita per la sua attività. Un intervento utile non solo in chiave emergenza Covid specifica Marcon, ma anche una riorganizzazione che porterà dei vantaggi logistici alla rete scolastica della città di Castelfranco. Questa è una soluzione di lungo respiro che volevamo dare a Castelfranco Veneto come provincia e credo sia un segnale, sotto gli occhi di tutti, del miracolo che stanno facendo questi 50 persone e questi operai.